Intercedono per Lui tutti i Santi, che hanno condiviso con Lui la Passione, e ora sono i Suoi commensali nel Capito Eterno. Cristo Pietà, Signore Pietà, prega per noi, prega per noi, pregate per noi. Prega per noi, prega per noi, pregate per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi. Prega per noi, pregate 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 per noi, pregate per noi. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. Salvaci Signore, salvaci Signore, salvaci Signore. e santifica con la tua benedizione questo muro all'entrata. Ascoltaci, Signore, Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ancoltaci, Signore,